L'immunoterapia dei tumori, in particolare con gli inibitori dei checkpoint immunitari, rappresenta una delle nuove frontiere dell'oncologia. È un settore che sta avendo uno sviluppo tumultuoso e che, nello stesso tempo, pone sfide notevoli in termini di governance, appropriatezze e sostenibilità. Una di queste è quella del networking. Ne parliamo con il professor Roberto Labianca, a margine del convegno Immunoterapia e Oncologia Attualità e Prospettive, tenutosi oggi a Milano. Professore, oggi parliamo di inibitori dei checkpoint immunitari. Come identificare i centri di prescrizione e di riferimento per la somministrazione di questi farmaci innovativi? Io penso che si debba parlare di centri di riferimento più che di centri prescrittori, cioè di centri nei quali ci sia un alto volume di attività, che vuol dire che si vedano molti pazienti con quella patologia, per esempio melanoma, e che abbiano esperienza nell'uso dei nuovi farmaci, che sono farmaci complessi, costosi, con potenziali effetti collaterali, che vanno gestiti con molta attenzione. Quindi questi centri devono avere delle caratteristiche particolari e penso che in ogni regione ce ne debba essere un numero limitato. Ecco, lei durante la sua relazione oggi ha parlato di strutture hub e strutture SPOC per la prescrizione di questi agenti innovativi. Cosa si intende esattamente con questi termini? Ma derivano dall'inglese, hub è il mozzo della ruota e SPOC sono i raggi che vanno verso il mozzo della ruota, è un termine che deriva ad esempio dal traffico aereo. Significa che ci sono dei centri, appunto quelli di riferimento, verso i quali dovrebbero convergere pazienti con caratteristiche così complesse che in un centro più periferico non si possono, diciamo, affrontare nel modo migliore. È una terminologia usata in economia sanitaria, non è una terminologia ufficiale nel nostro paese, alcune regioni l'hanno adottata, altre no, altre hanno un po' di diffidenza verso questi termini, però credo che renda bene l'idea di una rete in cui ciascuno faccia il suo dovere e non tutti che vogliano fare tutto senza poi in realtà poterlo fare. Quale dovrebbe essere il rapporto tra queste strutture hub e quelle SPOC che inevitabilmente verranno a delinearsi? La realtà è che hub non vuol dire serie A e SPOC non vuol dire serie B, vuol dire centri con caratteristiche diverse che devono imparare a lavorare tra loro. Quindi se il paziente deve essere indirizzato verso un centro di più elevata complessità o di più elevato livello tecnologico, questo deve avvenire in un modo preciso, organizzato, rispettoso anche della vita del paziente, quindi aspetti psicologici, sociali, familiari, eccetera. Quindi un lavoro di rete, un'autentica rete o network, come si suol dire, in cui ciascuno faccia davvero la propria parte. Ecco, ma sarà davvero possibile un meccanismo virtuoso di networking? Come si può attuarlo? È un obiettivo, in realtà lo si sta facendo molte volte sul campo. Il professionista, l'oncologo del centro, diciamo più piccolo, si mette in contatto telefonicamente o via mail con il centro più grande. Il centro più grande pubblicizza, però finora lo si fa in modo abbastanza spontaneistico, i propri studi, le proprie ricerche, quindi i due si incontrano e il paziente viene inviato spesso, giustamente, nel posto giusto. Però per farlo bene crediamo che bisogna raccogliere bene questi dati, bisogna dedicare tempo e risorse e probabilmente ci vuole anche del personale per fare bene questo lavoro. Questo però rientra nei progetti di molte regioni, tra cui la regione Lombardia con la sua rete oncologica lombarda. Grazie a tutti.